Consideriamo il polinomio S di H uguale a meno 2H alla terza più 9H alla seconda più 2H meno 24. Vogliamo stabilire se questo polinomio è divisibile per il binomio H meno 4. Osserviamo che il binomio H meno 4 è un binomio di primo grado e che il coefficiente di H è uguale a 1. Possiamo perciò applicare il teorema di Ruffini. Teorema di Ruffini che afferma condizione necessaria e sufficiente affinché un polinomio sia divisibile per un binomio del tipo X meno A è che il polinomio sia nulli quando alla variabile sostituiamo A, cioè l'opposto del termine noto del divisore. Ora, il termine noto del divisore è meno 4 e l'opposto di meno 4 è uguale a 4. Dobbiamo perciò calcolare il valore del polinomio S quando alla variabile, cioè ad H, andiamo a sostituire 4. Dobbiamo cioè calcolare S di 4. S di 4 sarà uguale a meno 2 che moltiplica, al posto di H dobbiamo sostituire 4, quindi 4 alla terza, più 9 per 4 alla seconda, più 2 per 4, meno 24. Calcoliamo le potenze e otteniamo meno 2 per 64, più 9 per 16, più 8, meno 24. E questo sarà uguale a meno 2 per 64 e meno 128, più 9 per 16, fa più 144, più 8, meno 24. E questo è uguale a, ora, meno 128 più 144, fa più 16, più 16, più 8, più 24, più 24, meno 24, uguale a 0. Quindi, in definitiva, abbiamo ottenuto che S di 4 è uguale a 0. E quindi vuol dire che il polinomio S di H è divisibile per il binomio H meno 4.